Nel mercato dell'arte internazionale, è considerato un artista al pari di Goya, Dalí, Picasso o persino del suo maestro, Velázquez. Io mi sento molto vicino a Sorolla. Capisco bene il suo atteggiamento nei confronti della pittura, le sue emozioni verso la natura, il modo in cui la descrive, con che intensità sente la luce e quanto sia importante per lui. È il suo motore principale. Sorolla ha gioito e sofferto per la pittura per più di 40 anni, realizzando 3.000 quadri e 4.000 disegni. Rimasto orfano molto presto, ha imparato a lottare da solo e tutto il suo grande lavoro ha finito per costargli la vita. Dedicò la sua vita alla pittura e non si risparmiò mai. A me questo aspetto di Sorolla sembra molto emozionante e lo ritrovo nella sua pittura. a me questo aspetto di Sorolla Grazie.